Buongiorno, buon sabato mattina e benvenuti a Occhio ai giornali che puntualmente qui alle sette tutte le mattine dal lunedì al sabato vi fa una panoramica sulle notizie principali di resto del Carlino e Corriere Adriatico ma noi guardiamo anche l'almanacolo del giorno quindi il calendario, il santo ma anche e soprattutto le previsioni del tempo tanto importanti per molte persone. Guardiamo però per ordine ecco il calendario sabato 7 settembre Beato Giovanni Mazzucconi il sole è sorto alle 6.37 e tramonterà alle 19.35 Previsioni del tempo, dicevamo appunto importanti perché così uno si fa un'idea di quello che sarà la prospettiva per la giornata e anche per il giorno dopo, siamo nel weekend, nel fine settimana quindi insomma anche questo ha il suo peso però insomma questo weekend non sarà l'insegna del bel tempo, chi sperava di fare un ultimo scampolo d'estate al mare mi sa che dovrà cambiare programma perché per oggi per sabato almeno secondo le previsioni della protezione civile delle marche il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e la copertura sarà in aumento nella tarda mattinata e anche nel pomeriggio. Come vedete compare anche la simbologia della pioggia anche sui rilievi in maniera importante a carattere anche di rovescio quindi temporali sparsi sempre nella tarda mattinata e anche nel primo pomeriggio però in serata questi fenomeni saranno in attenuazione, in lieve diminuzione le temperature nei valori minimi. Per domani domenica la situazione non migliora anzi possiamo dire che peggiora almeno così sulla carta nuovo transito di nuvole nel nostro settore quindi aumento della copertura, le precipitazioni sono date anche sulla costa come vedete anche a carattere di rovescio e di temporale sempre in esaurimento durante la giornata però prevalentemente in serata. Il resto della giornata sarà appunto all'insegna di questa situazione quindi temperature stazionari, lieve aumento nei massimi però insomma questo è il mare sarà mosso. Per lunedì migliora un po' almeno sul fronte della pioggia che non ci sarà però la nuvolosità e la variabilità rimarranno come segno caratteristico della giornata quindi cielo irregolarmente nuvoloso con diminuzione della copertura e ampie scarite nel pomeriggio quindi insomma dovremo aspettare il pomeriggio di lunedì per vedere di nuovo il bel tempo insomma è il cielo sereno. Temperature in aumento per lunedì insomma quindi questo è il fine settimana e adesso guardiamo subito le pagine di apertura dei quotidiani, il resto del Carlino e Corriere Adriatico come dicevo nei saluti iniziali partiamo dal Corriere Adriatico Fiera di San Nicola è la fotonotizia per quanto riguarda il Corriere Adriatico rende off-limits Viale Battisti quindi viabilità rivoluzionata a Pesaro tre giorni di Fiera Plastic Free, gran finale anche con i fuochi ma l'apertura è per la doccia gelata per 2000 studenti perché non sono andate bene le verifiche antisismiche due scuole della nostra provincia, l'ITIS Raffaello a Urbino e il liceo Nolfi a Fano quindi emergenza per 2000 studenti, chiuse scuole a Fano e Urbino poi vedremo all'interno le pagine Marche Nord a Muraglia arriva un altro sì per la variante e quindi ci si avvia a passi elevati verso l'ospedale unico cambiamo testata, andiamo al resto del Carlino per Pesaro qui la fotonotizia invece è per le scuole chiuse in 2000 senza scuola Nolfi e Raffaello di Urbino bocciati dalle verifiche antisismiche e poi invece l'apertura è per la cronaca siamo nel retro della stazione di Pesaro ride contro auto e bici quindi atti vandalici e furti per pendolari nel parcheggio utilizzato appunto da loro nella stazione di Pesaro ma si parla anche del mercato del pesce che non parte quello nuovo vedete qui nella foto le nuove pensiline quindi si attende ancora prima di renderlo operativo scatta l'iva sulla patente autoscuola in rivolta in fondo di pagina vi faccio vedere che è arrivata un'altra doccia gelata per i cacciatori che per questa domenica dovranno lasciare negli armadietti le loro doppiete e i loro fucili perché arriva la bocciatura bis del TAR per la pre-apertura vi faccio vedere anche la pagina di apertura del resto del calino di Ancona fotonotizia per questa bella studentessa un genio da lode si chiama Giorgia Sordoni perché è nella fotonotizia perché lei assieme ad altri 25 studenti italiani il 22 di ottobre sarà ricevuta da Mattarella per avere questo riconoscimento recentemente istituito il nuovo alfiere della Repubblica e appunto lei è l'unica della nostra provincia del nostro territorio che andrà il 22 di ottobre da Mattarella per ricevere questo riconoscimento per i buoni risultati scolastici praticamente i studenti della scuola media e superiore del secondo grado quindi le superiori che hanno ricevuto il diploma col massimo dei voti Notte Bianca un concerto un concerto stoico stasera ci sono i subsonica al Porto Antico sarà la prima volta ma c'è anche un lancio per la cronaca la ragazza aggredita tra diritti e razzismo una ragazza di colore nigeriana che era sul bus che non si voleva alzare per cedere il posto a un'anziana e quindi insomma sono scattate le contro reazioni adesso lei dice di avere un po' paura perché si sente un po' perseguitata all'interno c'è l'articolo che riguarda e poi a Fabriano scattano le contromisure per i cinghiali troppi cinghiali il sindaco mette le gabbie in città per catturarli e poi il museo di Iesi lo stupor mundi passa al comune senza debiti a Sirolo insomma dicono che c'è stata un'estrate super per quanto riguarda le loro cose insomma Sirolo è una meta molto bella e quindi è stata una buona estate per gli operatori turistici tranne il giorno in cui c'è stata la tempesta insomma e quindi non è stato un granché e la cronaca anche arriva da Iesi droga in ospedale un giovane nei guai ma entriamo nelle pagine che riguardano il nostro territorio fiera rivoluzione viabilità andiamo a Pesaro per la fiera che è ai nastri di partenza qui tutti i numeri dal 10 al 12 settembre 630 espositori per un totale di 6500 metri lineare di fronte espositivo e insomma quindi si punta a cifre record anche per quanto riguarda i frequentatori della fiera si punta a 300.000 visitatori però Viale Battisti sarà off limit a esclusione di residenti e albergatori niente circolazione e sosta nei giorni di San Nicola il presidente di Pesaro Parcheggi dice garantiamo le vie di fuga i divieti scatteranno da lunedì sera quindi da lunedì sera occhio che partono i divieti Pesaro nuovo ospedale ospedale unico in cassa un altro sì ma sul traffico e frane restano i dubbi quindi su quella zona restano i nodi irrisolti della viabilità e del dissesto idroseologico della fragilità di questo territorio però arriva il via libera dalla provincia la variante evidenziate criticità appunto legate alla falesia del colle Ardizio il tar scusate i test sismici le scuole ecco qua la notizia i due istituti che non apriranno sono il Nolfi di Fano l'ex Carducci edificio messo quello peggio e il Raffaello di Urbino e quindi insomma per ben duemila studenti un inizio di scuola così quanto meno tormentato sono duemila gli studenti il nodo è appunto il vertice che ha insomma decretato questo risultato il cemento armato sta cedendo in vari punti questo è quello che è emerso dalle verifiche e qui vedete appunto le foto che riguardano i due istituti scolastici quindi apertura il prossimo 16 del mese un po' problematica per questi studenti fuori servizio da sempre fuori servizio per sempre la relazione dei tecnici incaricati non ammette contro analisi o nuove verifiche il Raffaello e il Carducci non più utilizzabili scelte alternative rapide la decisione dei sindaci di Urbino e Fano sulla distribuzione degli studenti deve essere presa entro pochissimi giorni quindi entro pochi giorni gli studenti di questi due istituti scolastici conosceranno il loro destino ovvero dove andranno a frequentare l'inizio dell'anno scolastico in città poi dalle verifiche sismiche siamo a Pesaro solo 4 edifici sottoposti alla verifica i risultati tra l'altro non ci sono la situazione dei plessi gestiti dal comune è qui in questo articolo e quindi inizio scuola tormentato per molti studenti della nostra provincia mercato del pesce ecco di nuovo andiamo sul porto di Pesaro lo vedete qui inaugurazione in Gran Pompa Magna qualche settimana fa ma è ancora in asse di partenza perché dopo due mesi il problema però non è soltanto quello degli allacci per garantire appunto l'energia acqua e quant'altro serve ai rivenditori ma è il meteo ovvero i pescatori dicono se tira la bora è un disastro neanche le tende risolvono il problema e quindi è un mercato che a due mesi dal taglio del nastro non è stato ancora utilizzato e qui vedete ci sono gli utilizzatori e i pescatori che parlano di questo aspetto del porto della loro attività Galleria Roma niente pavimentazione per quest'anno lo dice Belloni l'assessore Belloni per adesso abbiamo fatto la copertura e ci fermiamo ci fermiamo lì parcheggio dietro la stazione è un far west è un far west pesarese vedete qui i risultati come sempre avviene leghiamo la bicicletta il telaio al palo però si portano via la ruota o il sellino e insomma e quindi lasciano questi scheletri a terra chi torna non può andare a casa con lo stesso mezzo con cui era andato in estazione ma si divertono anche sulle auto vedete danneggiarle tirano sassi spaccano vetri le rigano insomma la rabbia dei pendolari che dicono fate qualcosa per questa situazione a Fano andiamo a Fano cambio alla capitaneria di Porto Castellana al comando va via il tenente di vascello Iasella che per due anni è rimasta qui a Fano e andrà ad Ancona per un nuovo incarico e qui vedete i tre protagonisti ecco il nuovo comandante che è questo qui Castellana la Iasella il comandante uscente e al centro il comandante provinciale del Dipartimento Marittimo di Pesero il capitano di Vascello Tipaldi e questi erano i momenti della cerimonia molto molto bella ieri che si è tenuta al porto di Fano al J Palace chiusi il liceo Nolfi e litti l'Isis di Urbino verifiche statiche non superate summit in provincia le soluzioni dicono le lesioni per i moduli prefabbricati e doppi turni in altre scuole appunto per questi 2000 studenti che conosceranno il loro destino tra pochi giorni le idee sempre da Fano per il Pincio quali sono quest'estate c'è stato grande fermento attorno a questo salotto ritornato al suo splendore dopo la riqualificazione costata 700.000 euro al comune e chi voleva appunto preservarlo da feste un po' più così diciamo caserecce e chi insomma vorrebbe farlo un teatro di eventi insomma qualificati insomma c'è ancora un po' di discussione su questo aspetto ma si incomincia già a parlare di Natale l'ipotesi è in ballo è quella di riportarci il mercatino degli oggetti natalizi oltre alla mostra dell'antiquariato e quindi farlo rivivere anche in queste due manifestazioni ecco qui anche per il resto del callino di Fano il momento del passaggio questo è proprio il momento in cui ci si passano le consegne e insomma ieri la cerimonia del cambio della guardia punto sulla continuità questo è il primo commento che ha fatto il nuovo comandante e che per lui appunto Castellare dice essere al comando per me è un sogno e il Tar boccia ancora la riapertura quindi doppiette ancora ferme per questa domenica e le associazioni ambientaliste gridano vittoria impedita la mattanza dei colombacci Vallefoglia vediamo cosa succede nelle nostre tene nei nostri borghi nelle nostre vallate degrado e chiasso esposto dei residenti siamo a Vallefoglia il branco che insomma imperversa in quelle zone è oggetto di questo esposto dei residenti Ucchielli il sindaco dice cogliere sul fatto gli autori è purtroppo esenziale perché in mancanza di questo bisogna sapere chi sono per prendere provvedimenti da Fossombrone l'isola pedonale che non c'è l'area del centro di Fossombrone violata ripetutamente nella notte dalle auto anche qui la rabbia dei residenti che dicono se c'è l'isola pedonale va rispettata e sempre dalle vallate andiamo a Colli al Metauro domani a Fior di Piano e Serrungarina verranno celebrati due presidi gastronomici di eccellenza del nostro territorio ovvero sia la Pera Angelica ritornata in grande auge grazie all'iniziativa di molti agricoltori e poi la Casciotta di Urbino che sono uniti insieme per proporsi in un evento unico e quindi insomma il matrimonio dei matrimoni a livello gastronomico appunto citando il detto popolare al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere e quindi appunto si sono presi in parola come si suol dire e daranno vita per questo fine settimana a questa manifestazione dalla Val Cesano a Mondolfo purtroppo ancora strade pericoloso l'ultimo incidente ieri mattina con uno scooter un 17enne ricoverato a Pesaro i dissuasori non sono sufficienti su quella strada la Cesanenser rimane una strada molto a rischio sul fronte viabilità andiamo a vedere le ultime pagine quelle che riguardano Urbino per quanto riguarda il Corriere Adriatico sono riusciti a riaprire quella discarica ignorata la sentenza del Consiglio di Stato il Movimento 5 Stelle all'opposizione quindi dura presa di posizione per la discarica di Caluccio ampliata ma con cubatura ridotta e da oggi riparte la gestione di MMS e quindi però i 5 Stelle accendono un focus su questa criticità a loro parere e poi per la gioia di tanti arrivano gli scout in città a Urbino un'invasione pacifica tutti a scuola di orienting bussola e cartina geografica per scoprire il territorio e gli scout con bussola e cartina geografiche hanno grande dimestichezza e quindi sapranno dare giusti consigli laboratori e competizione aperta ai capi di tutta Italia e i paesi dell'unione europea insomma quindi un bel momento per capire chi sono gli scout e che cosa fanno per chi non li conoscesse andiamo con l'ultima pagina siamo a Senigallia Senigallia che allunga la stagione turistica grazie al buon cibo le praticamente le tre stelle di Uliassi hanno portato alla spiaggia di Velluto tanti turisti tutti in fila anche per degustare le buone preparazioni non solo sue ma insomma di tutto l'apparato gastronomico Uliassi è un po' il capofila con le tre stelle ma dietro di lui c'è tutta una truppa di ristoratori e di operatori di questo ambito commerciale che sicuramente fanno la differenza in quella zona e molti turisti sono lì per appunto anche questo aspetto allora riguardiamo in chiusura le pagine di apertura siamo nel Corriere Adriatico fotonotizia per San Nicola San Nicola a Pesaro la fiera ai nastri di partenza da lunedì sarà Off Limits Viale Battisti scattano i divieti ma emergenza per 2000 studenti chiuse scuole a Fano e Urbino problemi strutturali a Liceo Nolfi e all'Isis di Raffaello lezioni nei moduli prefabbricati e orari scalati queste le prospettive Marche Nord a Muraglia un altro sì per la variante le altre pagine vi faccio vedere le due pagine del resto del Carlino edizione di Pesaro in 2000 senza scuola il Nolfi di Fano e il Raffaello di Urbino bloccati dalle nuove verifiche sismiche ma in apertura c'è la cronaca il retro stazione a Pesaro è terra di nessuno ride contro auto e bici nel mirino di questi malintenzionati i mezzi lasciati dai pendolari nel parcheggio che al loro ritorno dopo una giornata di lavoro si trovano alla sorpresa delle sorprese ma poi si parla anche del mercato del pesce che è il nuovo mercato del pesce che non parte ancora per problemi non solo di allacci ma anche di maltempo perché sono esposti alle intemperie nel caso ci fossero poi stangata sull'iva per la patente autoscuole in rivolta e caccia che arriva per i cacciatori un'altra doccia gelata bocciata bis del Tar per la preapertura l'altra pagina che vi ho fatto vedere è quella di Ancona dell'inserto di Ancona con la fotonotizia per Giorgia Sordoni che sarà premiata il 22 di ottobre come alfiere della Repubblica assieme ad altri 25 studenti italiani diplomati alle superiori con i massimi voti e poi si parla di Notte Bianca con un concerto storico arrivano i subsonica al porto antico ed è la prima volta ma si parla purtroppo anche dei danni che i cinghiali fanno alle culture e quindi troppi cinghiali a Fabriano il sindaco mette gabbie in città per catturarli e i risvolti della vicenda della ragazza di colore che in un mezzo pubblico non si è alzata dal suo posto per cederlo a una anziana che ne aveva di diritto e quindi in retroscena anche di questa vicenda e poi c'è cultura si parla di cultura un museo a Jesilo Stupor Mundi passa al comune senza debiti e per Sirolo è stata un'estate scusate il gioco di parole è stata un'estate da incornisare per quanto riguarda appunto le affluenze e le frequentazioni bene grazie per essere stati con noi queste erano le notizie principali sui giornali ma naturalmente ce ne sono tante altre all'interno delle pagine degli inserti e quindi grazie per essere stati in nostra compagnia questa sera il magazine di Fano TV 7 per occhio e l'informazione poi tornerà lunedì mattina alle 7 proprio da questo angolo per occhio ai giornali ma questo è il numero che vedete in sovraimpressione sempre attivo per le vostre segnalazioni bene grazie per essere stati insieme a noi in questo inizio di sabato e buon fine settimana a tutti voi arrivederci alla settimana prossima Grazie a tutti